Buongiorno a tutti e benvenuti. La cosa che detesto di più degli infortuni è che oltre a preoccuparmi io e avere tensioni e adrenalina io devo anche reggere l'urto di tutti i vostri sfoghi, di tutte le vostre contumeglie, quindi è un incrocio pericoloso quello degli infortuni fra il mio umore pessimo e le vostre lamentele. Mi chiedete analisi seria, ma un'analisi seria si chiede a un cronista, un'analisi seria si chiede a un medico, a un preparatore, a un esperto, non si può chiedere a un cronista. Mi chiedete le colpe, ragazzi se voi siete appassionati delle colpe, cercatele, sparate nel mucchio e date le colpe a chi volete voi. Io non voglio rifugiarmi perché se no mi rinfacciate anche quello, perché quando c'è un infortunio, qualsiasi cosa si dice, se quando c'è un infortunio o uno vi dice sì è colpa di quello, quello va cacciato e allora siete tutti felici e contenti. Se uno cerca di dire invece qualcosa di diverso allora non va bene. Io non voglio rifugiarmi nella caducità delle cose umane, non voglio rifugiarmi nella casualità del calcio, certamente, però ragazzi una componente di sfiga me la consentirete, perché non è possibile che contro la Roma viene espulso e quindi una giornata di squalifica Tomori e nella sosta si fa male il sostituto Caluno. Col Genoa viene espulso Mignano e nella sosta si fa male il suo sostituto Sportiello. ragazzi sarà anche colpa mia, fate conto che è colpa mia, sarà anche tutto un concentrato di colpe dell'universo, di teste da tagliare, di analisi serie da fare, però ragazzi ce ne vò, cioè ce ne vò. Un po' come, e lo comprendo, Osimen che quando c'è Napoli-Milano-Milano-Napoli si fa sempre male, cioè sono quelle cose che voi direte colpa di questo, colpa di quell'altro perché avete mille elementi tecnici, scientifici, pratici per poterlo dire. Io purtroppo sono un povero comune mortale e quegli elementi non ce li ho. Per cui dico semplicemente cavolo, cavolo, è una roba questa notizia di Sportiello che mi ha fatto personalmente impazzire, quindi cosa volete che vi dica? Adesso dobbiamo smaltire la stizza, oggi smaltiamo la stizza e guardiamo avanti, facciamo gruppo e tutti insieme andiamo a giocare questa partita con la Juventus. Era stato messo, forse porta bene, non so cosa dirvi, era stato messo sotto accusa Allegri, prima del derby di Torino, prima della sosta per gli infortuni muscolari. Il giorno dopo la sua Juventus ha vinto il derby 2-0. Spero che adesso si aprirà questo eterno dibattito, ci saranno le inchieste, ci saranno le dita puntate, ci saranno tutte le cose che fanno parte del nostro mondo, per carità le capisco, sul Milan, sugli infortuni muscolari del Milan, come se in questa sosta li avesse avuti soltanto il Milan, però contro il Milan c'è sempre, come in altri casi, perché poi noi incolpiamo gli altri di mettere sempre i carichi su di noi, però anche noi li mettiamo su noi stessi, quindi adesso ci sarà il dibattito sugli infortuni muscolari al Milan e spero che porti bene anche a Pioli, come ha portato bene ad Allegri il giorno dopo. Quindi aggiorniamo il bollettino, dopo la famosa partita con il Genoa, subito pronti via assassini, il giorno dopo ladri, poi con l'andar del tempo scappati di casa per la vittoria dell'ultimo scudetto, ammoniti perché non succeda più quello che è successo a Genova e anche truffatori e adesso anche un po' sfigati, dopo la notizia di Sportiello che evidentemente non l'abbiamo determinata noi, non è stata determinata da nessuno. Immagino il ragazzo, immagino il dispiacere del ragazzo, il ragazzo si è allenato bene tutta la stagione, si è mostrato sempre pronto tutte le volte che abbiamo avuto bisogno, prima di Milan e Juventus, prima di Inter Milan si fa male Calulu e prima di Milan e Juventus si fa male Sportiello che dovevano sostituire uno Tomori e uno Mignano. Ve l'avevo già detto ma lo ripeto perché è il tarlo che mi porto dietro. Ragazzi, noi siamo abituati a non piangerci addosso, è chiaro che è un bel problema, non lo minimizzo e non lo derubrico a pacottiglia, è un bel problema, è un bel problema però andrà in porta Mirante? Forza Mirante, fiducia in Mirante, andrà in porta Laponava? Fiducia in Laponava, andrà in porta Olivier Giroux? Che cosa volete che vi dica? Fiducia in Olivier Giroux? Non so che cosa fare, non so che cosa dire, mi sento abbastanza a spalle al muro nei confronti dell'episodio e quindi cerco di buttarla sul ridere, è un ridere un po' isterico il mio ma cerco di buttarla un po' sul ridere. Quindi giocherà Mirante con ogni probabilità e quindi Antonio Mirante peraltro un ex juventino e bisogna far bene, ricordo che una volta anche la Juventus dovette ricorrere contro di noi al terzo portiere, usiamo questo tabù. Quando la Juventus dovette ricorrere al terzo portiere, infortunato Buffon, problemi del pre-parita di Abbiati, gioco a Chimenti e il Minabese a 3-1. Questa volta noi dobbiamo far giocare il nostro terzo portiere ma far andare la parita in maniera diversa. Vuol dire semplicemente che gli altri dieci giocatori dovranno stare, siccome Antonio Mirante è tanto che non gioca una parita ufficiale, dovranno stare attenti anche per lui, dovranno fare squadra con Antonio, aiutarlo, come disse una volta al termine di uno Juventus 1000 a 0 a Torino, onesta Adida non ti ho fatto arrivare neanche non ti riporta. Ecco, dobbiamo fare una partita grande, importante, seria per fare gruppo tutti insieme, non per tendere la mano ad Antonio Mirante ma per fare bene tutti noi, poi dalla prossima partita a Parigi rientrerà Mike Mignan. D'altronde ragazzi, su questa sosta per le nazionali si è fatto gravemente male Neymar, ma Neymar fa parte del calcio saudita quindi non ha impegni ufficiali né nel suo campionato né in Champions League. Ha avuto problemi in Mbappé, ha avuto problemi in Osimena, ha avuto problemi a rimanere fuori. E sono cose che succedono, sono cose che non vuole nessuno, non sono cose determinate da delle particolari colpe. Ragazzi, Sportiello leggo su Milan News che non si faceva male dal 2016, se i colleghi di Milan News evitavano di mettere questa notizia avrei evitato anch'io di dare un'altra testata contro il muro, non so come commentarla francamente, però insomma questo vi dà l'idea, non è che 2017 preparazione perfetta, 18-19-20 sempre preparazione perfetta, cioè non un'infortunio nel 2016 ma a ridosso di Milan Juventus arriva l'infortunio. Voi mi direte che me ne lavo le mani e me la cavo parlando anche un po' di sana sfiga, però ragazzi non riescono a pensarci. Io che non sono un preparatore atletico, io che non sono un medico, io che non vado a caccia di streghe, ragazzi il mio argomento è limitato, modesto, sarà sicuramente criticato e contestato da voi ma quello è, ragazzi che cosa volete che vi dica, dobbiamo come spesso dice il nostro allenatore anche su queste cose migliorare, stare attenti, forse una componente emotiva sai che devi, non lo so, azzardo, poteva essere accaduto per Pierre che sapeva di dover giocare il derby dall'inizio, potrebbe essere accaduto per Marco, non lo so, un po' di componente emotiva, a volte queste situazioni sono anche un po' mentali, si ripercuotono sul corpo, non lo so, non ho veramente elementi, d'altronde giocando, muovendosi si rischia sempre di farsi male, c'è capitata, c'è capitata dura, dobbiamo reagire, non dobbiamo stare lì a farci del male, dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità alla parità con la Juventus, a domani.